Ciao a tutti, mi presento, mi chiamo Maria Diva, in arte sono DJ Diva e sono una DJ a livello nazionale. Che dire, sono qua oggi per raccontarvi la mia storia, la mia vittoria e la mia rivincita sulla vita. Quindi, niente, innanzitutto voglio ringraziare la redazione di Nefi per avermi dato la possibilità di raccontarmi. E niente, io passerei subito alle domande, anche perché sono un pochino. Sarà un'intervista molto particolare, mi farò la domanda da sola e risponderò a una domanda che mi ha dato la redazione. Sono molto emozionata e si vede, perché è la primissima volta che parlo dal vivo di questo problema, in un video, soprattutto una video intervista, e niente. Quindi direi di passare alle domande. Ci racconti il problema che hai dovuto affrontare? Allora, nel 2009, io avevo 15 anni, a Rizzoli, l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, mi è stata diagnosticata una patologia che si chiama osteosarcoma. Che cos'è l'ostosarcoma? È un tumore osseo, aggressivo, quindi maligno, che colpisce prevalentemente in età adolescenziale, quindi colpisce l'apparato scheletrico in età prevalentemente adolescenziale. È una patologia, come tutti i tumori ossei, che ha necessità della terapia effettuata tramite chenioterapia e di intervento per l'esportazione del tessuto malatto. Allora, io personalmente l'ho avuto nella parte dell'articolazione del ginocchio, è una parte molto delicata per via del fatto che nel momento dell'intervento è stato molto più invasivo rispetto a un'altra parte del corpo, perché appunto la parte dell'articolazione hanno dovuto praticamente sostituire una parte della mia tibia, una parte del femore e ricreare tutta l'articolazione del ginocchio. Quindi comunque è stato un intervento abbastanza invasivo. Prima dell'intervento ho dovuto affrontare dei cicli di chemio, che purtroppo non sono bastati per l'intervento, perché al momento dell'analisi del pezzo, del tessuto malatto, si sono resi conto che non aveva risposto come ci si aspettava e quindi comunque il mio protocollo è stato più lungo. Quindi il percorso è iniziato nel marzo 2009 per concludersi nel giugno 2010. Quindi diciamo che è stato un pochettino più lungo di quello che ci si aspettava. Direi di passare alla prossima domanda, che è qual è stato il momento nel quale hai capito di poter vincere? Allora, durante il percorso non c'è stato un momento dove ho capito di poter vincere. Sicuramente la parte iniziale appunto della voglia di affrontare tutto quanto è nata soprattutto dalla voglia di vivere. Quindi sicuramente non è stata più la parte dove ti aspetti di vincere, ma avversi la forza di volontà nel affrontare tutto questo mostro che è più grande. È più grande di noi, è come che tu stai andando ad affrontare una montagna e devi cercare di buttarla giù. È quello il paragone che mi sento di fare. Sicuramente quindi all'inizio la voglia di lottare è nata uno per la lottata della vita, due primi genitori, perché io sono l'unica figlia che hanno. Quindi giustamente ti viene la voglia di dire, cavolo ti è nata la vita, cerchiamo di tenersi una bella stretta. Quindi sicuramente sono stati questi i due motivi della mia voglia di vincere su tutto. E la vittoria vera e propria c'è stata nel settembre del 2020, quando ufficialmente dopo dieci anni dalla fine del mio percorso mi è stato comunicato che per l'aspetto oncologico io ho completamente fuori dalla patologia. Quindi quella è sicuramente stata la frase più bella che mi sono sentita a dire dalla fine del mio percorso. Quindi quella è stata la vittoria, eccola, dove è stata la vera, il vero momento della vittoria. Quindi niente, non ci sono stati altri momenti sicuramente. Ma anche il fatto di, forse anche l'intervento, il momento che mi è stato asportato e quindi è stata anche quella la vittoria, il fatto di averlo fatto fuori. Forse anche quella è stata una grandissima vittoria da parte mia. Direi di proseguire, quindi se una ragazza avesse il tuo stesso problema, quali consigli le daresti per non arrendersi? Sicuramente, come ho detto precedentemente, la voglia di vivere. Quello è il consiglio più spontaneo che mi nasce, perché appunto è quello che ho utilizzato io, la voglia di vivere. E' la cosa principale, appunto, per non arrendersi. Un'altra cosa è il tuo percorso a sé. Quindi adesso, stando del tuo alla persona che magari vedrà questo video che appunto sta affrontando il percorso che ho dovuto affrontare io, sicuramente non ascoltare i percorsi degli altri nel momento in cui stai facendo quello che stai facendo. dei tuoi colleghi di avventura, chiamiamoli così, perché sono sempre stati definiti i colleghi di avventura. Ai miei tempi, poi non lo so adesso se le cose siano cambiate, perché comunque sono passati un bel po' di anni, quindi molte terminologie che allora si utilizzavano adesso non si utilizzano più, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente il consiglio è quello di non ascoltare gli altri mentre stai facendo il tuo percorso. Ascolta, ma non pensare mai di paragonarti a quell'altra persona, perché ogni percorso è studiato a sé, ogni persona ha un protocollo diverso, quindi assolutamente non ti affidare, cioè non ascoltare quello che è il percorso degli altri. Magari chiedi dei consigli, siccome anche il gusto cambia il gusto, quindi le papille gustative hanno necessità di gusti più forti, quindi nel mio caso appunto è successo questo, quindi chiedevo consigli, ma tipo tu cosa mangi per sentire il gusto? Farti venire soprattutto la voglia di mangiare, perché se non senti le cose che stai mangiando non ti viene neanche la voglia di mangiarle, quindi di conseguenza non mangi, non è il caso, in quei momenti, credetemi, non è il caso di non mangiare, perché comunque bisogna avere davvero tanta forza e le sostanze nutrienti servono. Quindi sicuramente è una cosa che magari si può chiedere, tipo queste piccole accortezze. Per il resto ogni percorso è a sé. Io posso raccontare del mio percorso, magari parli, si parla con un'altra persona che ha avuto il mio stesso problema e ti racconta un'altra versione, perché ogni percorso, ogni persona è soggettiva. In quel momento sei unico, è studiata una cosa per te, tu sei unico e ogni cosa che ti può accadere al corpo, le reazioni sono diverse per ognuno. Passerei alla prossima domanda che è... Aspetta un attimo. Quando hai deciso di diventare una DJ? Allora, questa passione per il mondo del DJ è nata nel 2013 per gioco. Puramente per gioco, perché io allora mi occupavo soltanto del lato piano bar, perché avevo studiato appunto canto per diversi anni, anche prima di questo problema di salute che ho avuto. Un'assera è capitato che un mio amico mi prendesse con sé e mi insegnasse anche ad utilizzare la console di lì. È nata una vera e propria passione, quindi... Quindi è quello lì il momento in cui ho deciso di diventare una DJ, perché dalla passione ne ho creato un lavoro. Quindi è tutto nato per gioco. Per gioco è diventato qualcosa di più. Se una delle DJ più richieste, quali sono le tue doti più importanti? Allora, sicuramente una cosa che mi riconoscono molte persone. Ormai mi sto anche abituando a questa cosa. E il fatto che mi dicono che sono umile e disponibile della serie che qualsiasi persona mi chieda un piccolo consiglio, io sono sempre disponibile nell'aiutare. Mi è capitato anche diverso tempo fa di trovarmi dei bambini, dei ragazzi curiosi di scoprire il mio mondo. Mi sono trovata seduta per terra con loro a condividere la mia esperienza a livello lavorativo, che è una cosa che mi piace tanto. Quindi è stata una bella cosa quella, sicuramente. In questo mestiere vince chi? Vince chi è tenace, chi non si fa abbindolare da promesse, da mondo tutto ricamato, che molto spesso viene proposto. Quindi sicuramente bisogna avere gli occhi grandi, io ci ho grandi. Quindi osservo molto attentamente tutte le situazioni, mi ascolto, osservo, quindi osservo, ascolto e da lì aprendo tutto ciò. Quindi l'esperienza sicuramente è una delle cose che mi caratterizzano prevalentemente, perché appunto avendo questa dote di saper ascoltare, saper osservare, vedi da diverse persone il modo di lavorare, il modo di porsi e apprendi, apprendi il giusto. Cerchi di apprendere la cosa migliore da ogni persona. Quindi sicuramente questa è una mia caratteristica. Quindi l'esperienza, l'aver visto tanti colleghi in azione, l'aver lavorato con tanti colleghi, questo aiuta tanto, sicuramente. Quindi è una cosa molto importante quella. L'altra domanda mi dice, se una ragazza volesse svolgere il tuo stesso lavoro, quali dovrebbero essere i primi passi da compiere? Allora, sicuramente è capire se si ha la voglia di fare il donkey shot che lotta contro i mulini a vento, perché inizialmente ho avuto tantissime difficoltà. Tuttora le ho, perché comunque c'è una parte di questo mondo che ancora dice che il DJ è una figura maschile. Per assurdo, io sono diplomata a geometra, un mondo completamente maschile, e quindi mi sono ritrovata a dover lottare nuovamente in un altro mondo completamente maschile. Allora eravamo davvero poche quando ho iniziato io nel 2013. Adesso comunque è un mondo che si è espanso tantissimo. Fortunatamente direi, perché è giusto che ci siano anche le donne che si facciano valere, anche in un lavoro come può essere quello del DJ, prettamente maschile. Quindi direi che sicuramente è la tenaccia, la tenaccia di voler raggiungere determinati obiettivi sempre nel giusto. Perché, ripeto, come ho detto precedentemente, ci sono tantissime farfalle, tantissimi ricami su questo mondo, ed è facile cadere in tentazione sotto determinate cose. Io prevalentemente non ci sono mai caduta, sono sempre stata attenta anche nei miei contanti, nelle mie conoscenze, sempre dosando il tutto nel modo giusto. Quindi sicuramente la tensione, la tenaccia, la passione e l'amore per la musica, perché quello serve. Perché se dietro la console tu non ci metti il cuore, quando suoni non arrivi alla gente. E quello è importante, perché molte persone mi dicono eh, ma c'era quello che stava suonando per se stesso. È vero. Io quando suono, suono per la gente, oltre che per me stessa perché magari mi piace, perché mi piace quello che faccio, ma prevalentemente noi ci esibiamo per la gente. Quindi deve essere un... Quando io costruisco il set, costruisco anche in base a ciò che mi trovo davanti, quindi le persone. Non sono di quelle che si crea il set da casa, ma bensì lo fa al momento. Quindi in base a ciò che mi trovo davanti, so che magari un pezzo nuovo non lo posso proporre, perché magari il... La media dell'età è un pochettino più alta, quindi cerchiamo di mettere dei pezzi più conosciuti. Non posso mettere un pezzo di nicchia che è appena uscito, che magari il giovane lo conosce, ma la persona un pochettino più grande. Quindi parlo della mia età, perché io attualmente ho 28 anni, ci sono dei brani che non riesco a seguire dei giovani. Quindi giustamente io faccio un... La bilancia si equivale più o meno. Cerco di accontentare sia una fascia d'età che l'altra. Quindi sicuramente questo è un altro consiglio che do. Non suonare per te stessa, ma suona soprattutto per la gente. E quella è la moneta vincente su tutto. Ti senti discriminata dai tuoi colleghi? Certo, assolutamente. È una cosa che infatti... Per cui lotto da diversi anni, appunto. L'anno prossimo saranno 10 anni. Ed è stata la lotta più difficile, perché appunto i colleghi sembra così, ma uno sono gelosi, due per loro non sai suonare perché sei donna. Quindi c'è ancora questa discriminazione nei confronti delle donne sotto determinati punti di vista. Fortunatamente stanno iniziando a cambiare le cose, perché essendo che il mondo del DJ si sta riempendo anche di figure femminili, di figure femminili in generale, stiamo dando quell'impronta di dire noi siamo più forti, o comunque possiamo stare il vostro passo in generale. Quindi sì, ancora c'è questa piccola discriminazione sulla donna e l'uomo sotto questo punto di vista sul mio lavoro. A chi ti ispiri nel mondo della musica ho tante, tante figure a cui mi ispiro. Di sicuro le mie idole, proprio non c'è cosa a cui... Cioè, sono felice di ascoltare i loro set, non sono mai andata a sentirle dal vivo, però ho guardato tutti i loro live e sono le Nervo. Le Nervo sono due sorelle, che per me sono le pioniere del mondo delle DJ donne. Sono fresche, sono innovative, sono divertenti, fanno show e questo sicuramente è un duo a cui io mi ispiro tanto, perché infatti nelle mie serate cerco di fare un po' di show e poi vabbè, ripeto, io mi ispiro a tante figure. Questa è proprio la figura principale, diciamo. Quanto è importante l'abbigliamento delle serate? Sicuramente il look fa tanto, l'outfit, l'immagine è importantissima, quindi inutile essere ipocrita dicendo no, il look non lo guarda nessuno, l'immagine non lo guarda nessuno, no, è importante, perché comunque dare una bella presenza, dare un... come si può dire? Un'icona di chi sei, dare un segno. Io sono caratterizzata per i capelli lunghi, prima ero bionda, adesso sono mora, ho fatto questo cambiamento, sono caratterizzata dal fatto del trucco semplice, del modo che ho in console di stare, che cerco di ballare sano nell'eleganza senza cadere nel volgare, il fatto... cioè sono queste le caratteristiche proprio che mi distinguono da altre, quindi sicuramente è importante l'immagine e il look, tantissimo. Stai lavorando a tuo brano, quale stile avrà? Allora, questa è una cosa, una chicchetta... E ancora, diciamo che non è... non è niente di fondato, c'è già un mio brano, non è però quello che... che rappresenta il mio stile musicale, perché il brano che attualmente è in circolazione, è un brano per il mercato giapponese, creato nel 2019, quindi quello che adesso c'è attualmente in giro non è un brano che rappresenta ciò che vorrei creare in futuro. In futuro, ovviamente, come ho detto, io mi caratterizzo nel mondo dei suoni latini del reggaeton, quindi sicuramente se uscirà un brano in futuro avrà quelle sonorità, senza ombra di dubbio, quindi mai risale un brano dell'estate, questo non lo sapremo. Quindi nulla, direi che bisogna stare connessi, quindi vi invito a seguire la mia pagina Instagram che è DJ Diva Ufficial e tutti i canali appunto social che sono Facebook, mi trovate appunto come DJ Diva e quant'altro, quindi mi raccomando state connessi sui social perché lì svelo le mie chicchette e le mie eventuali collaborazioni future. Ci sono anche le date, quindi siete informati a 360 gradi su tutto ciò che faccio. Niente, dopo questa domanda mi sento ancora di ringraziare la redazione, mi sento di ringraziare tutti voi che avete seguito questa intervista, vi mando un bacione grande, a presto, ciao!